Mister Messina della San Pierda Renese, fammi un commento dalla partita, direi una vittoria importantissima per mantenervi nelle posizioni alte della classifica. Sì, vittoria molto importante, poi giocata anche bene, abbiamo creato tanto, abbiamo rischiato una volta sola, abbiamo preso l'oltre, però la prestazione dei ragazzi è stata ottima, ci abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo preso traverse, salvataggi, va bene così, tre punti ce li marchiamo e andiamo avanti. Ok, ci risentiamo alle prossime, in bocca al lupo, ciao!